Ciao a tutti! Oggi parliamo dell'argomento che tiene banco su YouTube di questi giorni. La guerra? No! La crisi di governo? No! Di più, di più! L'aumento dell'IVA? No! Di più, di più! Ma una cosa sconvolgente che ha fatto tremare i cuori di milioni di persone. Sto parlando del fatto che il carissimo Yotobi ha deciso di chiudere il canale e non far più delle recensioni sui film brutti. Bene, allora, sentite di cotte di crude su questa cosa. Quindi, come tale, devo dire anch'io la mia, ovviamente la dirò un po' al di fuori dello schema. Allora, la mia opinione a riguardo è la seguente. Fa bene Yotobi a cambiare il suo format, a passare al gameplay e quello che vuole fare. Perché? Perché si vede che si è rotto il cazzo. Poi si vedeva un po' anche nei video che faceva recentemente, che erano abbastanza tirati, non erano più genuini. Dopo un po', un vero signore, che lui è stato un vero signore, sapete perché? Perché a differenza degli altri piscioni che chiudono il canale o cambiano format o cambiano cose senza divuncazio a nessuno e senza avere rispetto per nessuno, andando poi a cercare la preghieria di chi li segue di continuare, l'ha detto direttamente in un live e ha detto io cambierò questa cosa perché, come ho direttamente io, mi sono dato il cazzo. Insomma, come dicevo, è normale. Non era più genuino come persona.